come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità poi come dico sempre da adesso fino ad agosto secondo me di novità ce ne saranno tantissime prima che mi dimentico ricordatevi anche di seguirmi su instagram quindi è facilissimo se non avete l'applicazione la scaricate la installate vi registrate poi mi venite a cercare su instagram perché anche su instagram faccio tante altre cose non parlo solo di bonus parlo anche di tanti altri argomenti ma veniamo alla questione del video finalmente veniamo vediamo vedremo un nuovo in arrivo un nuovo argomento che potrebbe tornare veramente utile molto comodo soprattutto vi dico farebbe molto comodo al nostro portafoglio perché stiamo parlando di soldi partiamo da questo arriviamo a vedere cosa dice il sito internet money.it loro dicono a fine mese di marzo cesseranno tutti gli incentivi che fino ad oggi hanno permesso di calmirare i prezzi delle bollette di luce e di gas al momento ve lo dico già non c'è ancora nulla di definitivo perché il governo non ha ancora deciso cosa fare sono un po lentucci ecco sono un po lentucci ultimamente questo governo un po lentuccio però però pare che siano proprio lavorando in un nuovo progetto di bonus con tutte le dovute valutazioni del caso per mettere in campo dei nuovi aiuti per le famiglie e le imprese italiane quindi sembra che in questi giorni il mef che tradotto vuol dire ministero economia e finanze sia in attesa di ricevere dei dati utili da parte di arera per fare delle proiezioni e dei calcoli di fattibilità per capire bene come fare a introdurre questo nuovo eventuale bonus che sembra che potrebbe addirittura arrivare entro luglio ma non solo ma non solo perché le novità non finiscono qui perché pare che ci sarà anche ci saranno anche altri due bonus il rinnovo del bonus bonus sociale tropezzo rinnovo del bonus sociale e un nuovo credito d'imposta per le imprese credito d'imposta non è niente altro che un credito che può essere usato in dichiarazione dei redditi per abbassare le tasse detto in parole povere cioè la cosa un po più elaborata però per farvelo capire questo è un credito che si usa nella dichiarazione no voi avete questo credito lo usate poi per pagare meno tasse detto proprio in parole spicciole ecco per quanto riguarda il bonus sociale se vi ricordate era arrivato nel 2020 diciamo durante la crisi del covi è che anche sta parola benedetta non si può dire su youtube e nei social perché sennò ti banno nei video comunque durante il covi ci siamo capiti e comunque è legato all'importo dell'isè ed è riservato alle famiglie in difficoltà economica e serve per il pagamento delle bollette che poi tra l'altro la legge di bilancio ha anche aumentato la soglia massima dell'importo dell'isè portandola da 12.000 a 15.000 euro quindi in realtà sarebbero più persone che possono ricevere questo bonus quindi oltre al rinnovo del bonus sociale e al credito d'imposta per le imprese come vi ho detto ci sarebbe allo studio ci sarebbe perché tutto un ci sarebbe qua ci sarebbe allo studio anche l'introduzione di questo nuovo bonus famiglie si chiama proprio lo che penso che si chiamerà così bonus famiglia che sarebbe una misura che prevede sconti in bolletta per le famiglie che hanno consumato di meno nell'ultimo anno vi spiego meglio sembra che le famiglie avranno un prezzo dell'energia più basso nel caso in cui ci sia stata una riduzione dei consumi rispetto all'anno precedente e qualcuno mi ha già scritto qualche tempo fa e io come faccio a sapere è in realtà lo dovesse sapere perché in teoria e in teoria se visto come diceva mio nonno spegni quella luce perché non siamo parenti dell'enel se voi spegnete per dire facciamo un esempio spegnete tutte le luci vi accorgete subito se state spendendo meno oppure no diciamo non è difficilissimo da capire però tornando al discorso del video diciamo che questo prezzo per che serve per avere lo sconto viene calcolato con una percentuale e poi superata una determinata soglia di sistema per il calcolo si pagherà la differenza al prezzo di mercato detto così effettivamente sembra un po complicato ma è più facile di quanto sembra quindi per capire bene basta che tornate indietro nel video e riascoltate l'ultimo pezzo bene io spero che anche per oggi le notizie siano state interessanti ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo video sempre solo sull'unico canale originale di youtube il mio aspetto ciao